Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey, io sono Stefano e oggi vi presento la maglia del Napoli dedicata a Diego Armando Maradona nella colorazione blu scuro nella versione player quella cioè dedicata ai calciatori. Questa maglia di colore prevalentemente blu con le rifiniture azzurre e i numeri gli sponsor bianchi si contraddistingue dalla raffigurazione del volto di Diego Armando Maradona sul fronte. Tutti gli sponsor, gli stemmi e i loghi sono termosaldati il che si vede all'interno della maglia perché non vi sono cuciture. Il volto di Maradona è ricavato come fosse un'impronta digitale impressa in modo indelebile nella memoria dei tifosi partenopei. Nelle maniche e sulle spalle c'è questa bordatura azzurra molto elegante. Il tessuto della versione player è molto ricercato, molto fine. Il collo è a girocollo sempre con questa bordatura azzurra. In controluce si può vedere il tessuto traspirante della maglia. Sul retro c'è il numero di Fabian Ruiz, uno dei miei calciatori preferiti e la sigla della società Napoli. Allora cosa ne pensate della maglia? Secondo me è veramente bellissima. Non è la mia squadra del cuore ma con l'immagine di Maradona e con questo colore blu scuro è veramente molto elegante e nella mia classifica rende 5 stelle. Ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player che come vi ricordo è un po' più stretta. Ciao! Ciao!